Questo siamo noi due, la nostra posa, la mescolanza. Eravamo così anche nell'ecografia, ancora dentro la pancia della mamma. A differenza della maggior parte degli esseri umani sulla terra, noi eravamo insieme fin dalla nostra prima cellula e siamo arrivati qui insieme. Io e Giud abbiamo un'anima sola che dobbiamo dividere in due, ed è un albero con le foglie in fiamme. Sono ancora loro. Una coppia di gigantesche teste di cazzo di seconda liceo con l'hobby di gettare dalle scogliere un povero essere umano di 13 anni. Mi siedo e apro l'album. Annerisco completamente una pagina bianca. Calco con la mano fortissimo. Così è come se il nero uscisse dal mio dito, dal mio essere, e dilagasse sulla pagina. Lei è solare, divertente e normale. Parla con tutti. Io parlo con me stesso. Ho usato tutti i miei gialli per colorare le capelli. I capelli di Giud, lunghi centinaia di chilometri. La mamma non ha un figlio preferito, il che significa che il posto va contesto di volta in volta. eccolo di parte di Grazie a tutti. Grazie a tutti.